Sembra proprio che Chiara Appendino è il nuovo sindaco di Torino, prenderebbe dunque il posto al vecchio segretario di DS, Piero Fassino, che è stato per l'appunto in carica per quanto riguarda la gestione di questa realtà capoluogo del Piemonte Torino e sembra che la democrazia, il popolo e il pueblo, come si dice in Spagna e negli paesi latinoamericani, ha scelto proprio Chiara Appendino come sindaco di Torino. Chi è Chiara Appendino? È una ragazza, possiamo dire una ragazza, infatti ha solo 31 anni d'età e siamo all'anno 2016, giovanissima, possiamo considerarla come una imprenditrice, una boccoliana, quindi anche al fatto che ha frequentato l'Università Bocconi di Milano, quindi dunque laureata al 100%, borghese, ma anche una donna molto intelligente, che ha a cuore i problemi della gente, che ha a cuore le sorti di una città grande, spettacolare, piacevole e ricca di arte come Torino, una città che ha molto da offrire ai torinesi e a tutta la regione di Piemonte. Dunque la Chiara Appendino prende dunque il posto di fatto a Piero Cassino, ex sindaco di Torino, e adesso vediamo come succederà, come andranno a fine le cose a Torino, questa città così bella e importante della ricetta, se è la regione a Piemonte. Beh, complimenti a Chiara Appendino, a lei faccio tutta quanta la rivogluta, la mia stima e la mia affetto e le auguro di lavorare in modo profilo per la vita di Torino, quindi un grosso in bocca al uomo. Questo sarebbe quanto, iscrivetevi, commentate e un saluto!